Che cos'è per te la politica e a che cosa serve? Mi associa subito alla parola polis, cioè piazza, cittadino, partecipazione e soprattutto consapevolezza. Per me sia da una giovane serba che ha lasciato il proprio paese durante il regime di Milosevic, sia adesso che da 15 anni vivo in Italia, significa innanzitutto essere consapevole del mondo che ci circonda, leggere, informarsi e partecipare attivamente da cittadino e magari anche in futuro da politico, ma insomma osservazione partecipante è indispensabile per essere consapevoli del mondo che ci circonda per poterlo anche cambiare, politica è anche cambiare. Dunque qual è il futuro della politica? Il futuro della politica rappresenta soprattutto la partecipazione diretta, a mio avviso soprattutto grazie ai nuovi media come si chiamano i social media più recentemente, più diciamo ricorrente questa denominazione. Insomma con Twitter, Facebook assolutamente siamo forse più partecipativi al mondo della politica, forse siamo più consapevoli, ma forse è tutto un vero inganno. Dobbiamo pensare al futuro come una possibilità di partecipare direttamente da cittadini alla vita dei politici e della politica e soprattutto alla possibilità, come dicevo prima, di cambiare nella maniera più immediata il mondo che ci circonda, perché il mondo va cambiato, se no andiamo indietro. Grazie e buon appetito!